Un tema sicuramente di interesse generale in quest'ultimo periodo è il come prevenire virus e influenze. Molti medici esperti a riguardo hanno consigliato di assumere molta vitamina C, una cosa tra l'altro già risaputa perché l'acido ascorbico rafforza il sistema immunitario e crea un ambiente ostile per diversi agenti patogeni, virus, eccetera, eccetera. Allora vi voglio mostrare una pianta che in questo periodo cresce spontaneamente più o meno dappertutto che è ricchissima di vitamina C. Nel mio dialetto questa pianta è chiamata panevin. Ha un fusto molto carnoso e succulento che tende a avere sfumature fra il verde e il rosso intenso. Questa è la sua foglia. 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 Grazie.